Salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy Questo è un video un po' atipico, lo vedete, siamo su Dokkan Battle versione global Questo è il mio account ovviamente non principale, un account che ho creato praticamente tre giorni fa, quattro giorni fa E non ci ho ancora giocato tantissimo e quindi il mio personaggio migliore, come vedete, è il grandissimo Nappa Quindi in realtà l'account è nato da pochissimo tempo e quello che vorrei fare con il tempo è cercare magari di portarlo avanti E averlo sotto controllo con lo smartphone che è Android Il mio main account invece è su un tablet che non ho a portata di mano perché io attualmente non sto a casa E per chi mi segue su Instagram fatelo ragazzi, venitemi a seguire anche su Instagram Tlog trattino basso Jimmy o se no comunque nei video, nei link in descrizione trovate subito il link E per chi mi segue avrà già visto che stamattina mi sveglio, entro su Whatsapp E mio fratello appunto che ha il tablet mi ha trovato con i ticket anniversario mi ha trovato Broly LR Quindi quel Broly che praticamente quando è uscita la batch io ci ho speso 550 stone Non trovando lui ma trovando altri 3 LR È un periodo abbastanza fortunato da questo punto di vista Con gli altri ticket di un mesetto fa se non sbaglio ho trovato anche Magetta LR Quindi ragazzi 5 LR come ultimi personaggi migliori di Dokkan Però quello sul main account Quello che facciamo oggi principalmente è tra virgolette per provare a inaugurare questa nuova serie su Dokkan Che in tanti mi avete chiesto e continuate a chiedere Andiamo a pullare, andiamo a fare 5 pullate con i ticket Ragazzi il discorso di Dokkan è un po' complicato perché ormai un botto di gente porta Dokkan su Youtube E non potrò mai competere dal punto di vista delle pullate Non posso farcela perché ovviamente a livello economico per me è uno sforzo insopportabile E quindi le pullate arriveranno nel momento in cui ci saranno stone messe da parte nelle batch Che io penso siano più utili per me oppure per quanto riguarda ticket e altro Il contenuto da portare sporadicamente qui su Dokkan sarà ovviamente ancora da decidere per capire un po' cosa portare Se qualche consiglio Io comunque mi rifarò sempre alla community forum di Dokkan Battle Italia Che ovviamente vi metto come link in descrizione perché sono loro che a mio avviso mi hanno insegnato quello che so fare E comunque che sono espertissimi e bravissimi Secondo me ci sono tra i migliori player in tutta Italia Andiamo subito a farci le nostre 5 multisammon e vediamo un po' Io metterò questo video indipendentemente dalla riuscita anche solo per cominciare appunto questa serie Vi ricordo che nel mio main account per fortuna è uscito un BrolyLR che cercava un sacco anche per completare diciamo il team Il team suo Quindi andiamo a vedere subito se si ripeterà la fortuna anche per quanto riguarda quest'account qui Che potrebbe essere siccome è l'inizio magari uno dice mi dai qualcosa di buono Vediamo Speriamo ragazzi Speriamo Subito Super Saiyan 3 Fantastico Quindi l'SSR garantita Vediamo un po' Vediamo un po' Buono Ottimo Un C16 tech Che male Malvagio non è Ovviamente ci vorrebbe il suo team in realtà Però sicuramente non è male come personaggio Andiamo subito con il quarto personaggio Un Virus Int Mamma mia se fosse stato quello rosso è impossibile molto probabilmente Virus Int E come quinto personaggio ci becchiamo un Gohan Inutilissimo che non serve assolutamente a nulla Però dai una multi che non è andata male per questo account è anche buono Con due SSR che inserisco subito Tanto buttate lì a casa Andiamo con la seconda multi Mi sono sempre andate tra virgolette bene queste multi diciamo Sono sempre andate abbastanza bene Cioè vedete il Majin Buu ragazzi Attenzione alla fusione Attenzione alla fusione Non si fondono Però rimane con i capelli neri Quindi o è una marea di SSR Oppure c'è il Crack Screen Una marea di SR Fantastico Vabbè Dottor Ghero Amen Per questa multi non fa niente Siamo a tre Questo Trunks Ragazzi sta veramente dappertutto E tutte le multi sicuramente qualcuno ne ha trovate Almeno uno per ogni batch Quindi vabbè C'è per ogni multi summon Multi Bruttina Assolutamente bruttina Abbiamo altre tre multi Speriamo che la fortuna ci assista Anche su questo account Dove appunto cercherò di prendere più Cronosi Scusate Più stones possibili Per Per andare appunto A pullare Da Goku Da Vegeta Almeno a fare i giri I due giri Con le quattro multi Attenzione Crack Screen Vediamo cosa sarà Cosa ci esce Bardak Vabbè Non è lui Neanche Trunks Vediamo che SSR ci capita Questo Trunks c'è sempre Abbiamo trovato tre in tre multi Attenzione Che mi devo aspettare come ultimo personaggio C17 Peccato Già mi aspettavo qualcosa di incredibile Però niente Ultime due multi ragazzi Poi comunque fatemi sempre sapere nei commenti Cosa voi vorreste vedere di Dokkan sul canale Sempre sottolineando il fatto che a livello di multi E di pull Per me è veramente complicatissimo E venitevi anche ad unire al profilo Telegram Quindi venitevi a seguire Nel profilo Instagram Scusate Venitevi a seguire su Instagram Dove troverete tutte le news E anche delle cose in tempo reale Insomma Qualsiasi cosa Inerente Dragon Ball Due Terzo personaggio Zamasu Ma GLSR Non ci serve a niente Ah Botamaghetta Che non c'ho neanche nel main account Però Insomma Da inserire Nel team Tanto più SSR ci sono all'inizio Meglio è Ultima multi ragazzi Ultima multi Andiamo a vedere se ci grazierà con la LR Oppure no Anche se effettivamente LR è complicatissima da trovare Stiamo Cioè Non scherziamo È veramente difficile Yancha Bellissimo Non si trasforma Quindi non mi aspetto sinceramente neanche un Neanche il crack screen Mi aspetto tutto SR Vegeta Goku Super Saiyan Bambino Che su Legends Oltretutto è pure una bestia Quarto personaggio E siamo al quinto personaggio Con Dodoria È fantastico Stiamo a fare le altre due singole Tanto è inutile che tengo per fare altre Molti Giocciamo le due singole E poi ragazzi Chiudiamo quel video E Spero In qualche modo Di poter portare avanti comunque questa serie Anche Soprattutto grazie ai vostri consigli Andiamo con la singoletta Con Vegeta Mamma mia se si fondessero Fondetevi Super Saiyan Non si fondono Vegeta 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 Rimane Super Saiyan 1 Quindi mi aspetto un SR Anche qua E infatti Yancha Bellissimo Beh Bellissimo Yancha Andiamo con l'ultima singola Quel Vegeta fa sempre sperare Quando si becca Fa sperare chiunque Di beccare appunto Una fusione Che sia una fusione In Vegeta Super Saiyan In Vegeta Super Saiyan Andiamo con un Darbula Bellissimo Darbula A-G-L S-R Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti Cosa state trovando Nel frattempo poi Dai Ticket E ci vediamo ai prossimi video Ciao ragazzi